No, però sono loro poi i volti e le storie che arrivano di più inevitabilmente, che hanno bisogno dell'ascolto. Non è un caso che stamattina ho aperto non con le parole di Draghi, che ascolteremo dopo e che sono importanti, ma con le loro voci. Io credo che ad un anno dalla pandemia era importante che si elaborasse un lutto collettivo. Noi anche in questo ultimo periodo ci siamo assuefatti ai numeri, i 300 morti ci sembrano meno dei 600, dei 700. Questo ci fa comprendere che il valore della vita in questo anno, terribile, è come se avesse perso intensità. Io credo che in questo anno abbiamo vissuto una fortissima fragilità, fragilità come popolo, come Stato, rispetto alla situazione sanitaria che avevamo, rispetto alle risposte che non abbiamo saputo dare in tempo. In fondo le terapie intensive dovevano essere, come dire, in qualche modo elemento centrale anche di una sanità che sappia dare risposte. Eppure è arrivata una pandemia, è chiaro, una pandemia terribile, cosa che ci sta ancora attanagliando. Però l'idea che ci sia stata una risposta tardiva in tutto, ma io lo vedo anche adesso, è come se stessimo rincorrendo sempre uno stadio emergenziale. Per cui alla fine rincorriamo degli elementi. Abbiamo la rincorsa alle mascherine, abbiamo la rincorsa per implementare le terapie, abbiamo la rincorsa per creare i centri hub per vaccinare, abbiamo la rincorsa per approvvigionarci. Cioè voglio dire, abbiamo la rincorsa per far riaprire le scuole. Allora questo in qualche modo dovrà finire, perché in questo momento forse c'è stato un tempo anche congruo per poterci riorganizzare. Per esempio la storia della scuola, che sembra defilatissima, però è una storia centrale. Sì, apriamo e chiudiamo. Ci fermiamo lì. Apriamo e chiudiamo. Esatto. E allora io dico, se quella era la situazione che si stava creando, io non voglio tornare sul discorso dei banchi, delle cose. Però da parte scientifica si diceva che erano i luoghi che dovevano essere in qualche modo implementati. C'era bisogno di creare i trasporti. Tu pensa, c'è una mia amica che mi ha chiamato e mi ha detto, ma sai che in una scuola di Roma, in una quarta, quinta elementare, c'è mio figlio che è costretto a fare lezioni a turno con gli altri della classe fuori dalla porta, perché non c'è spazio. Allora, questa cosa ci fa capire che siamo fragili, ancora fragilissimi, e che abbiamo bisogno di ricominciare a risistemare i nostri tasselli. Per quanto riguarda l'elaborazione del lutto, la difficoltà anche di digerire quelle morti, che sono ingiuste, perché se una persona viene portata... Perché il papà di Asia poteva essere salvato. E' qualcosa con cui fai i conti per il resto della tua vita. È così Asia, no? Sì, è il rimpianto più grande. In un certo momento ce ne siamo fatti un po' una colpa. Abbiamo pensato di non aver fatto abbastanza, però abbiamo capito che non è stata colpa nostra. Ci siamo attenuti alle direttive che venivano date, non andare nei pronto soccorsi, aspettare con pazienza a casa, telefonare i numeri di emergenza. Quindi ci siamo comportati come cittadini, come si deve. E questa è stata la risposta che abbiamo avuto e le conseguenze. Sai, Gaia, c'era stato nel periodo di Bergamo, c'erano state molte persone che mi avevano scritto. E alcuni messaggi li ho ancora conservati. Uno, mi ricordo, mi destò molta amarezza. Mi raccontò che aveva vegliato per tre giorni la madre morta in casa, perché non c'era nessuno che andava neanche a ritirare le salme. Allora, quella situazione ci fa comprendere che c'è bisogno di un'elaborazione profondissima. È chiaro che Asia, come le morti di Bergamo, sono morti che pesano tantissimo, che ancora non sono state comunque ben inquadrate. Forse ci vorrà del tempo. Forse a distanza di qualche tempo capiremo quello che veramente è successo in questo anno terribile.